Grazie ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video di Giovanni di Zeta. Bene, allora oggi parleremo di due servizi di streaming, infatti come abbiamo fatto ieri parlano di Disney Plus, ma oggi parleremo di Amazon Prime e Netflix, anche se precisamente Amazon Prime offre, cioè non è solo streaming di film, offre anche molto altro. Comunque adesso ne parliamo. Bene, analizziamo innanzitutto i costi. Allora, Netflix nella sua versione, diciamo, standard costa 8€ e si può solo vedere uno schermo contemporaneamente. Quindi, se voi avete acquistato Netflix nella versione base a 8€ e magari avete vostra madre, che o vostro padre o qualsiasi persona che ha il vostro Netflix a vedere Netflix sulla TV e voi volete vederlo sul computer, non potete farlo. Poi c'è, diciamo, la versione media, che costa circa 11€, che permette di vedere due schermi contemporaneamente, quindi, in questo caso, sul computer e sulla TV, o su due computer contemporaneamente. Ciò abbiamo la versione premium, che costa ben 16€, che sono tantissimi, dove si possono vedere 16 schermi contemporaneamente. Quindi, ad esempio, mi viene in mente un computer, un computer fisso, una TV e un'altra TV, ad esempio. Oppure, magari, la versione premium è utile per quelli che hanno i profili condivisi. Invece abbiamo Amazon Prime. Amazon Prime costa 3€ all'anno, barra 4€, scusatemi, costa 36€ all'anno, barra 4€ al mese. Mi pende voi. Offre Amazon Photo, che è un po' come Google Photo, per fare il backup delle foto. Poi acquisto Amazon Photo, penso ci si possano aggiungere dei soldi, bisogna pagare un abbonamento ulteriore, per avere ulteriori giga. Poi, lo stesso ci offre Amazon Prime Music, che poi, per avere sempre un abbonamento premium, bisogna pagare un pochino di altri soldi, per avere l'abbonamento Untiled, che vuoi ascoltare tutta la musica che vuoi, perché alcune musiche su Amazon Music normale non le puoi ascoltare. Però, in compenso, hai gli schippi limitati. Poi, offre Amazon Prime Video, che, ovviamente, si può alzare facendo, ad esempio, un Infinity Selection, come quello che ho io, perché, infatti, io ho Amazon Prime Video versione Infinity Selection. Sennò, si può anche prendere la versione premium, che è quella dove sono tutti i contenuti, anche quelli a pagamento. Bene, adesso, secondo voi, qual è il migliore? Bene, allora, sicuramente, a livello di contenuti, Netflix è superiore 100 volte. Anche se, in realtà, se io fossi Netflix, non andrei a letto molto tranquillo, contando che Amazon è uno dei più grandi colossi mai esistenti, nonché il suo proprietario è l'uomo più ricco del mondo, quindi, sinceramente, non andrei a letto tranquillissimo, pensando che lui potrebbe comprare tutti i produttori, o più o meno far pubblicare tutte le serie TV più famose di Netflix, come, ad esempio, La Casa di Carta, Stranger Things, Sex Education, e così via, su Amazon Prime Video potrebbe tranquillamente farlo. Quindi, a livello di contenuti, Netflix finisce. Solo che, secondo me, Netflix è troppo sovrapprezzato. Cioè, ragazzi, un abbonamento base che costa 8 euro, ci posso prendere Disney Plus, come abbiamo detto ieri, solo pagando un euro in più. Cioè, non ha senso, è troppo. Nella versione media è un 11 euro, e nella versione premium 16 euro. Cioè, 16 euro, ragazzi, sono tantissimi. Adesso, cioè, se poi li contiamo all'anno, adesso vi faccio il calcolo alla calcolatrice, se noi facciamo 16 per 12, viene 192 euro all'anno, che sono tantissimi contro i 36 euro all'anno di una versione base di un Amazon Prime. Ovviamente, si possono anche fare gli abbonamenti, a parte per Amazon Prime Video, che penso costi sui 2 euro, barra 3 euro. Quindi, quale conviene comprare? Passiamo subito alla parte su cosa. Ah, rispondo già. Amazon Prime Video. Cioè, Amazon Prime, scusatemi. Cioè, Amazon Prime è veramente una cosa pazzesca, perché, infatti, vi offre pacchi super veloci. Amazon Music, che di certo schifo non fa, anche se usate Spotify. Perché, cioè, io ho tutti e due. Spotify non ho premium, e ho Amazon Music. Quindi, se vuoi avere degli schipi limitati, usano Amazon Music. Se vuoi, invece, ascoltare delle playlist, uso Spotify. Poi offre Amazon Prime Video, che magari non c'è tanto come su Netflix, barra Disney+, però di certo male non fa. E poi offre anche Amazon Photo. E poi le spedizioni di pacchi super ultra veloci. Cioè, io volendo posso ordinare una penna, mi arrivo al giorno dopo. Ora, non so quanto posso avere senso ordinare una penna su Amazon, però, insomma, fa comodo. Quindi, la risposta di questo video è fate Amazon Prime Video, perché Netflix, fate Amazon Prime Video, barra Amazon Prime, perché Netflix è troppo sovrapprezzato. Cioè, costa veramente tanto. Secondo me si sono montati un pochino la testa quelli di Netflix. E quindi, niente. Comunque, ciao ragazzi. Spero che questo video vi sia piaciuto, che sia stato di vostro gradimento. E niente, ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi. Grazie. 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 Grazie.